Per modificare il tono dell'avvisatore dei DELKIM è necessario essere nella modalità impostazione. Ad avvisatore spento si premeranno contemporaneamente i tasti PB1 e PB2 e si attende un doppio segnale acustico prima di rilasciarlo. A questo punto premendo il tasto PB1 si ascolterà la scala di 64 toni. Rilasciare e ripremere il tasto PB1 invertirà la direzione della modifica del tono. Giunti al tono non gradito rilasceremo il tasto PB1, scadrà la modalità impostazione e il tono selezionato verrà memorizzato.